In occasione del primo anniversario della traslazione del corpo del venerabile Carlo Acutis, il padre vescovo ha celebrato la Santa Messa nel Santuario della Spogliazione, a porte chiuse e trasmessa in diretta tv, a seguito delle disposizioni del Governo per l'emergenza coronavirus. Il 6 aprile dello scorso anno, infatti, il corpo del giovane morto nel 2006 per una leucemia fulminante è stato tumulato in un artistico monumento funebre all'interno del Santuario della Spogliazione. Carlo Acutis prossimamente sarà beatificato. Nei mesi scorsi, infatti, Papa Francesco ha approvato il miracolo che farà salire il venerabile Carlo Acutis agli onori degli altari.